Questo è un pezzo per non essere soli mai, perché il senso di tutte queste cose qual è? Perché siamo tutti qui questa sera? Per sentire che non siamo soli al mondo, che siamo parte di una comunità, che siamo parti di una società, di una comunità di uomini, ed è questo che dobbiamo mantenere vivo, di uomini e di donne ovviamente, di esseri umani. E si è scoperto, gli americani che misurano tutto, hanno fatto uno studio di svariati anni per capire che cos'è che rende felice. Rende felice avere un ruolo nella società, essere rispettati dai propri segni. In fondo quello che succede è quello che è importante in paesi come questo, in città come questo, in nazioni come la nostra. Se tutti cercassero di comportarsi con onore, dignità e rispetto degli altri, forse vivremmo in un mondo migliore. Mi sento solo in mezzo agli agenti, osservo tutto ma non tocco niente. Mi sento strano al cuoco, l'importante è quasi fosse trasparente, e poi resto fermo e non muovo niente. La sabbia scende molto lentamente, l'acqua è chiara e si vede in fondo il limpido finalmente. Ma no, non voglio essere solo, non voglio essere solo, non voglio essere solo mai. No, no, non voglio essere solo, non voglio essere solo mai. E quindi ci sento solo, non voglio essere solo, non voglio essere solo così foda. Al nord del tutto il mio caso, sulla collina del Giovanier, mi ha avvicinato sempre dito al loro guai. Al nord del tutto il mio caso, sulla collina del Giovanier, mi ha avvicinato sempre dito al loro guai. Al nord del tutto il mio caso, sulla collina del Giovanier, mi ha avvicinato sempre dito al loro guai. Al nord del tutto il mio caso, sulla collina del Giovanier, mi ha avvicinato sempre dito al loro guai. Al nord del tutto il mio caso, sulla collina del Giovanier, mi ha avvicinato sempre dito al loro guai. Grazie. 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 Grazie.